Musica Ciao, eccoci come sempre a sfogliare il nuovo album del Librochet come sempre le luci fantastiche ma è una cosa velocissima ed vedremo l'album numero 4 che va fino al 5 aprile del 2016 e ci sono tutte le novità primaverili quindi davvero un super super album ci sono anche degli omaggi molto interessanti soprattutto molto molto interessanti e tante novità e direi di non esitare oltre e di sfogliare subito il catalogo Ciao, allora eccoci qui direi subito di iniziare vediamo che ci sono tante novità soprattutto per la primavera prima cosa ci sono in omaggio i pennelli make up in questa pagina e la vediamo anche eccolo, nella successiva i pennelli make up in omaggio ed è con questo codice rosa sottolineato acquistando 25 euro dei prodotti che adesso vi mostro ora andiamo alle novità la novità è la polvere perlescente per le labbra molto semplice da applicare si applica sulle labbra oppure si unisce al rossetto e questi prodotti che sono le novità fanno parte di prodotti che se acquistate 25 euro sia in omaggio il pennello a scelta nuovi colori per i mattitoni glossi eccoli qui nuovi colori oppure i classici normali ombretto effetto marmorizzato questi sono fantastici guardate che bellissimi effetti vanno bene sia asciutti che bagnati altra novità è la polvere illuminante sempre marmorizzata che è fantastica per scadare l'incarnato e in edizione limitata eccoli qui i decolori degli smalti andiamo avanti vi mostro subito gli altri prodotti tra quelli che sono sempre in collezione ah dimenticavo un'altra novità ma me la mostro adesso il primer labbra opacizzante o mattificante come si fa? basta applicare il primer e poi il rossetto il rossetto preferito si vede che c'è una leggera differenza eccola qui si nota ad esempio da queste foto del colore con e senza il primer e ha un effetto ed è oltre che fissare opacizzante a qualunque colore andiamo avanti altri prodotti le matite labbra e rossetti e tutti i prodotti make up anche questi come ad esempio le novità dell'altro album quello vecchio del fondotinta Cusion quelli push push che tanto se ne parla in pubblicità fa sempre parte dei prodotti che con 25 euro si ha in omaggio il pennello a scelta anche tra questi 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 sempre anche questi anche qui anche qui i smalti e finiamo con gli smalti vediamo ora il set perché abbiamo a 9,95 il set idra vegetal che comprende il gel detergente e la crema idratante 24 ore oppure anche sempre il set con il gel detergente e poi la crema idratazione intensa oppure la crema idratante con protezione 25 ed è il prezzo non cambia il gel anche scegliete solamente la crema che preferite altro set il gel detergente purificante e la crema idratante è la crema idratante e la crema idratante antirossori oppure se preferisci il latte detergente sempre idrativo e la crema idratante idrativa per la pelle sensibile a questi vediamo ora vediamo ora un set per le mani perché abbiamo a 5,95 il set che comprende la crema idratante a lunga durata questa ed è l'esfoliante per le mani oppure promozione per i piedi a 9,95 che comprende ed è l'esfoliante per i piedi alla lavanda la pastiglia effervescente per i piedi sempre la lavanda ed è la crema idratante 12 ore sempre ovviamente la lavanda eccoci ora alla super promozione perché abbiamo il set doccia a 5 euro ogni set ad esempio questo è il set relax che comprende quelle fiori di loto ed è quella magnoide della cina ed è a lavanda di provenienza oppure il set profumato delicato che ha le fiori di loto ed è magnoide della cina e il fiore di cotone oppure il set esotico eccolo qui con la carambola della magnesia e il fiore di tiaree e la noce di macadamia oppure il set a tutta golosità che comprende magari se si sposta questa qui eccola ed è noce di macadamia ed è quella caffè che è meravigliosa e la melograna di spagna eccoli ci sono anche questi il set profumo fruttato e che comprende l'arancio e i flori da melograno di spagna e il pompilmo della florida oppure il set viaggio in oriente che ha il fiore di cotone e magnoide della cina e carambola della manesia vediamo anche che è questa è una promozione perché a 12,95 abbiamo il perfumo del manoi che sapete è fantastico a me piace tantissimo eccoci qui avete visto quindi tutte le novità e tutte le promozioni che sono davvero wow come sempre vi ricordo che qui sotto trovate il link per contattarmi per le informazioni per gli orderi tranquillamente e c'è sempre anche il link per scaricare nel formato pdf il catalogo così potete tranquillamente sfogliarlo sul vostro computer sul tablet dove siete più comode io a questo punto ho finito e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente approfumati con il mio giocatore al mondo di Brochet